ragazzi inutile perdere troppo tempo a parlare del nuovo format perché l'avrete già visto scritto da tutte le parti fp1 e fp2 il venerdì il giro più veloce di ogni pilota conta per la classifica combinata che dà accesso diretto alla q2 il giorno dopo il giorno dopo sabato fanno un turno di prove libere la mattina paragonabile alla vecchia fp4 poi chi non entra tra i primi 10 nella combinata del giorno prima fa la q1 gli altri no i primi due della q1 vanno in q2 insieme a quelli che erano già dentro e si giocano dalla pole al dodicesimo posto sia per la garetta che per la gara quindi se uno fa la pole in qualifica parte primo sia sabato che domenica poi alle 3 del pomeriggio del sabato c'è la garetta poi vanno a letto la mattina si svegliano fanno un warm up di 10 minuti poi fanno una parata in stile che sport era in stile rally no carambola no neanche ah già formula 1 fanno una parata in stile formula 1 e poi c'è la gara e adesso parliamo di cose serie come di consueto anche le sparate 2023 sono sponsorizzate da nordvpn vi sarà capitato decine di volte di imbattervi in una schermata simile a questa video non disponibile nel tuo paese o contenuto non disponibile nel tuo paese ecco una delle tantissime cose che una rete virtuale come nordvpn fa è bypassare proprio quel blocco avrete a disposizione più di 5000 server ultra veloci in 60 paesi del mondo e quindi sarete voi a decidere da dove connettervi volete accedere ad un sito disponibile solo in territorio americano ma siete seduti sul divano di casa vostra a savignano sul rubicone aprite nordvpn selezionate stati uniti dalla lista dei server e come per magia sarete dentro anche voi oppure volete guardare la formula 1 in chiaro sulla tv svizzera selezionate un server in svizzera e via ha ovviamente server ultra veloci non è detto a caso ci sono i numeri a dimostrarlo quindi andate su nordvpn.com slash talking helmet per ottenere uno sconto esclusivo più 4 mesi gratis quando acquistate il piano biennale e avete sempre 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati quindi rischiate zero io lo uso ormai da anni provatelo anche voi grazie nord allora generalmente sono convinto che quest'anno sarà l'anno del casino sarà un bivio perché sia tecnicamente che con il format hanno fatto di tutto per far diventare le gare una lotteria e secondo me ci sono riusciti quindi staremo a vedere adesso facciamo una carrellata di tutti i piloti e vi dico cosa mi aspetto da loro poi alla fine le sparate francesco è campione in carica informissima moto a puntino come gli piace e fra tutte le moto in pista è senza dubbio la moto giusta da avere sotto al sedere favoritissimo per il mondiale fa i giri veloci a comando che è un'abilità che quest'anno gli sarà più utile che mai viste le due gare a weekend in generale si potrebbe dire che è condannato a rivincere il mondiale però posizione super invidiabile per gli altri 21 quindi va bene così zarco mi aspetto un altro campionato alla zarco né più né meno se togliete l'anno disastroso in ktm e il primo in ducati lui ha la media del sesto posto a fine anno in moto gp quindi può sicuramente mirare è una top 5 prima vittoria vera della domenica secondo me impossibile specialmente quest'anno marini lo sapete che forse forse potrebbe fare un discreto campionato provocazione se facesse meglio di martin a fine anno o addirittura meglio di tutte e due le pramac se pensate sia possibile scrivetemelo sotto maverick la situazione è molto semplice 42 partenze maverick la situazione è molto semplice ci saranno 42 partenze quest'anno e come analisi già basta secondo me comunque è inevitabile che andrà forte e la sua prima vittoria con aprilia la do come molto probabile ma come ho già detto 42 partenze per uno che fatica con le partenze non possono che essere un problema quarta raro stessa situazione dell'anno scorso e come l'anno scorso dico che facendo un campionato limpido e cristallino può sicuramente giocarsela non facile neanche per niente questo va da sé morbidelli ultima chiamata in moto gp direi e mi dispiace per lui ma la situazione selle in moto gp è brutale e non credo ci saranno alternative per lui se non dovesse funzionare con yamaha neanche quest'anno e per lui vale lo stesso discorso che vale per diversa altra gente perché non è una questione di talento è una questione di opportunità perché non devono essere solo piloti di grandissimo talento devono anche performare in spazi di tempo e di opportunità ristrettissimi e non sempre funziona bestia deve andare forte ma non ha frettissima sinceramente può anche fare solo bene al primo anno in ufficiale e nessuno gli potrà dire niente fare bene significa top five e per forza davanti a tutte e due le pramac raul fernandez io farò quello che probabilmente ha fatto anche lui cioè far finta che il suo anno in ktm non sia mai esistito e quindi per certi versi la sua storia in moto gp comincia adesso la moto è giusta se deve sbocciare sboccerà nakagami sta effettivamente tenendo il posto augura non c'è altra ragione della sua presenza in griglia tutto quello che riuscirà a raccogliere sarà un grandissimo traguardo sia quello che sia binder lui forse è il più grosso squilibrio tra talento del pilota e livello della moto altissimo il primo bassissimo il secondo e quindi quando la moto non sarà un limite lui ci sarà come ci è sempre stato praticamente mir è la più grossa incognita per quanto mi riguarda viene da due annate sottotono entra nel garage di markets quindi best of luck e nient'altro augusto fernandez posizione difficilissima vista la policy di ktm quando si parla di piloti ne hanno macinati non so quanti a questo punto lui nel giro di poco potrebbe diventare l'ultimo di una lunga serie perché succede questo perché la moto è quella che è i piloti non hanno chance di mettersi in mostra e le selle non ci sono risultato ti scaricano e ciao aleish dovrà per forza fare il suo migliore anno in aprilio a questo punto non può mirare ad altro rins veramente boh lui sembra mezzo contento addirittura però io non so quello che pensare la onda in crisi profonda e lui arriva da sei anni di suzuki non una sfida da poco miller ma secondo me le chance di anche lontanamente replicare le sue performance in ducati sono molto molto poche quindi non lo so probabilmente servirà più lui a ktm che viceversa raimondo secondo me dovrà accontentarsi di una top 10 a fine anno al massimo non vedo altre chance digia dovrà andare forte per forza e che ne so puntare a fare quello che ha riuscito a fare bestia prima di lui magari una roba del genere più o meno bezzecchi non lo so un altro che probabilmente andrà fortissimo però sono già in diversi ad andare forte quindi alla fine la spunterà quello che sgomiterà più di tutti alex marquez è uno di quelli che mi intriga di più perché è un po la pedina pazza no quella che non ti aspettavi quello che per certi versi non c'entra niente in quel posto ma che allo stesso tempo sa andare forte perché non si diventa campioni del mondo due volte per caso la moto è quella giusta quindi chi lo sa magari ci farà divertire olivera lo considero un pilotone la moto è di quelle giuste quindi per lui dovrebbe essere solo una questione di prendere le misure un minimo e basta martin è un altro dei punti interrogativi più grossi perché va forte come un missile ma con tanti asterischi vatte la pesca proprio quindi voglio solo stare seduto a guardarlo non ho aspettative e neanche preconcetti e poi alla fine della lista c'è lui quello che non importa quante bastonate prende rialza sempre la testa prova ad andare più forte di prima e ci riesce anche e che quindi per forza di cose molto spesso anche il solo fatto di vederlo ancora in sella vale il prezzo del biglietto da solo arriviamo alle sparate 2023 la prima è che zarco e alex marquez vinceranno una garetta a testa francesco vincerà il mondiale in indonesia bezzecchi farà due podi di fila pronti per questa maverick farà un weekend perfetto paul holshot e vittoria quartararo vincerà esattamente tre gare l'alieno andrà sul podio una domenica sì e una no vincerà anche due garette bestia sarà in testa al mondiale almeno una volta durante l'anno rins davanti a mir in almeno 15 gare aleish farà sei podi sprint e sei normali oliveira sarà la prima aprilia a vincere una qualsiasi cosa adesso mettete anche voi le vostre sparate nei commenti ci vediamo sabato sera dopo la garetta qui su youtube a che ora non lo so comunque ci vediamo forza pedro basta ciao